benvenuto a tutti e un saluto a tutti cari amici di youtube adesso volevo parlare di uno dei luoghi più misteriosi d'italia che guarda caso si trova in sardegna la regione più misteriosa d'italia questa isola non tanto la sardegna ma il luogo misterioso che vi sto parlando un piccolo scoglio calcario di 4000 metri quadri con della vegetazione sopra della macchia mediterranea qualcosa di al quanto misterioso al cento per cento sia per gli animali misteriosi dei criptidi dopo vi dirò quali sono sia per il fatto che la ci vive un re con la sua famiglia e si tratta del regno più piccolo al mondo dopo vi vi dico mi spiego meglio e sia del fatto che ci sono delle basi militari segrete che stanno studiando dei vari misteri di di tesori che si trovano ai piedi di quell'isola dei diretti marini alquanto sconosciuti che pochi hanno visto che si trovano vicino quest'isola l'isola si chiama tavolara tavolara è una delle isole più famose d'italia è una delle isole più misteriose e anche lo scoglio più grande d'europa dunque a tavolara dicevano che era anche abitata nel neolitico veniva chiamata subito dopo rma dal dio ermes che era mercurio che si diceva che vivesse lì il dio mercurio altre teorie dicono che un tempo non era né uno scoglio né un'isola ma una nave pietrificata dal dio poseidone perché questa nave chi la guidava era colpevole di aver aiutato ulisse in una missione dato che ulisse aveva cercato uno dei suoi figli polifema allora poseidone se l'aveva a morte contra ulisse e chiunque aiutava aiutasse a ulisse chiunque aiutava ulisse veniva punito da poseidone e guarda caso questa barca questa nave è stata trasformata da poseidone in una roccia in uno scoglio questo scoglio chiamato isola di tavolara ci vivono anche altri animali misteriosi le famosissime capre dei denti dorati ovviamente ai denti dorati soltanto perché queste capre mangiano dell'erba particolare che dipinge di giallo oro i loro denti e queste capre sono protette nella fattoria di questo re che governa che regna e governa su tavolara che a dire la verità è solo il regno di una famiglia dunque come è iniziato questo re prima di tutto il primo re si chiamava giuseppe bertoleoni che principalmente abitava a genova venne in quest'isola per non essere disturbato da nessuno e continuare a lavorare la terra e anche il bestiame senza che nessuno lo disturbasse guarda caso accadde quando giuseppe bertoleoni era ancora un umile pastore un umile condadino che un re il re di napoli nome non ve lo posso dire perché non me lo ricordo era sbarcato per puro caso non perché c'era stata una tempesta che aveva fatto sbandare la sua nave verso quest'isola di tavolara allora uno di questi re di napoli di cui non mi ricordo il nome era stato aiutato da questo umile pastorello e allora per ringraziarlo fece diventare giuseppe bertoleoni il re di tavolara dopo giuseppe bertoleoni fu il regno di suo figlio paolo bertoleoni che questo re ha avuto l'occasione di incontrare il re carlo di savoia che arrivò lì perché voleva andare a caccia di queste capre dei denti dorati ma subito si presentò paolo bertoleoni per difendere le sue capre carlo alberto disse io sono il re d'italia e faccio quello che voglio e allora paolo bertoleoni rispose al re carlo alberto e io sono il re di tavolara e poi questo carlo alberto lasciò in pace le sue capre e se ne scappo nella sua terra ovviamente in piemonte e mi bertoleoni rimasero sempre lì a tavolara nell'ottocento la regina vittoria visitò quest'isola incontrò la famiglia bertoleoni nel suo castello non tanto il castello dei bertoleoni ma il castello della regina vittoria ci sono tutti gli stemmi regali e anche della dinastia bertoleoni continuo a dire il fatto che quest'isola si può visitare solo in parte perché una parte dell'isola controllata da questi poliziotti segreti queste stanno facendo delle ispezioni dei controlli all'isola per vedere dei casi misteriosi che avvengono in quest'isola quindi non si può visitare tutta l'isola in parte è visitabile in parte no io vorrei vorrei anche che qualcuno di voi andasse a visitare quest'isola all'isola di tavolara si trova in provincia di olbia anche se ancora governata da questo re in parte governata dalla famiglia bertoleoni in parte invece governata da queste da una polizia segreta di cui non è accessibile perché loro stanno facendo questi studi visto che ci sono altri misteri come delle dei rettili marini sconosciuti o anche il corallo nero ma il corallo nero non c'entra niente con questa polizia segreta perché la polizia segreta vuole scoprire se ci sono dei tesori e se ci sono altri misteri particolari in quest'isola di cui su internet non lo dicono ma neanche su sui libri e in televisione non hanno mai parlato non hanno parlato di quest'isola io mi sono documentato su alcuni libri anche su internet sull'isola di tavolara e voglio convincere qualcuno di voi se vuole visitare l'isola di tavolara e commentare sotto qualcosa in più che io non ho detto su quest'isola prendete quello che vi sto dicendo come delle teorie o come delle favole siccome che questo racconto sembra quasi una fiaba dei fratelli grim di collodi e con questo è tutto un abbraccio dal gran mitico